Far cadere il governo Draghi è stato un errore veramente grave perché questo governo e Draghi rappresentava autorevolezza e credibilità nei confronti dell'Europa e del mondo. Insomma abbiamo fatto la figura di quelli che hanno un Maradona in squadra e lo hanno tolto per mandarlo in pensione. Così Vincenzo Ceccarelli, il candidato scelto dal centro-sinistra per il collegio uninominale di Arezzo, Ceccarelli ha alle spalle varie esperienze politico-amministrative, prima sindaco di Castel San Nicolò, poi presidente della provincia di Arezzo ed assessore alle infrastrutture in regione e attualmente al capogruppo del PD nel Consiglio regionale, temi nazionali ed esigenze del territorio nell'agenda che presenterà gli elettori. Io cercherò come candidato di portare il confronto, il dibattito e l'attenzione anche sui temi del territorio. Tre priorità per Arezzo? Le tre priorità per Arezzo sono aggangiate a quelli che sono i temi nazionali. Oggi il problema principale è sicuramente quello del caro energia e del caro bollette. L'altra priorità per il nostro territorio, anch'essa aggangiata ai temi nazionali, è quella del lavoro, cioè un lavoro dignitoso che superi la troppa precarietà che in questo momento si è determinata e soprattutto che ridia potere d'acquisto ai salari. La nostra proposta è quella di un salario minimo garantito, è quella di uno stipendo in più a fine anno proprio per dare la possibilità alle famiglie di far fronte a quell'aumento dell'inflazione e dei prezzi che già a luglio ha toccato il 9%. L'altro aspetto che riguarda il nostro territorio è sicuramente di un'attenzione alle aree interne, quindi le aree montane, quelle più marginali, che hanno bisogno di scelte che anche come regione stiamo facendo per limitare lo spopolamento. Forse il vero avversario di questa tornata elettorale è la sfiducia verso la politica e il tasso di astenzionismo. Molti degli astenuti sono anche giovani, quali sono i piani per riavvicinarli alla politica? Lei ha centrato la questione, credo che la politica debba recuperare credibilità e la credibilità si recupera dando delle risposte. Per quanto riguarda i giovani credo che l'ambiente e i diritti civili siano le questioni più sentite e giustamente perché attengono al loro futuro. C'è l'ambiente, vediamo anche i cambiamenti climatici, vediamo quello che sta succedendo e deve essere una delle priorità.